La benedizione degli oggetti sacri, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, misericordia e pace del Padre, Figlio e Spirito Santo siano con tutti voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Come il Padre ha amato me, così anch'io ha amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Silni bozze, izvore milo di ogni potente, origine fonte di ogni benedizione, che ti compiace la crescita spirituale dei tuoi figli, dimostra sulla te benevolenza e fa che portiamo questi signi di fede e di devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo Gesù Cristo. Per Cristo nostro Signore. che benedica Dio ogni potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è il segno della preghiera di Corigione. Grazie a tutti. 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 Preghiera di Corigione. Signore. Signore. Con la nascita della Beata Vergine Maria, tu hai reddito il mondo. Grazie a tutti. 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 dimora in noi e apriamo la nostra vita affinché tu possa guarire tutto quello che ci ostacola ad abbandonarsi completamente a te di abbandonarsi a te con tutto il cuore Signore anche sempre impariamo dalla Beata Vergine Maria nostra madre imparare come abbandonarsi a te Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Shukranya Yassu Shukranya Yassu Shukranya Yassu Gesù, ti ringraziamo perché tu sei sempre con noi e non ci abbandoni mai. Tu sei sempre con noi e non ci abbandoni nelle nostre malattie, nelle nostre angosce perché tu sai che noi abbiamo bisogno di te. Anche adesso noi ti evochiamo e ti preghiamo e esaudisci le nostre preghiere per mezzo della Maria, tu ci doni la guarigione del corpo e dell'amene per poter seguirti in modo più perfetto finché la nostra fede possa crescere sempre di più. Guariscici Signore. Guarisci Signore Guarisci Signore. Voi, vostre famiglie, tutti coloro per chi stasera avete pregato, benedica di ogni potente Padre, Figlio e Spirito Santo.